che eccola tutto mamma mia food porn rieccoci oggi siamo oggi siamo a prati vicino piazza capur in una bakery molto particolare very america da pops A presto L'ho portato a fare merenda raga, ci vedete? E che merenda? A parte che il pancake e il waffle le sono, penso, tre più grossi che abbiamo visto in Vita Mia, sono enormi, che è... Sì, sono pure bellissimi, tutti decorati. La crema al mascarpone. E assaggio fruttile. Buona, delicata, non eccessivamente dolce. No. Buona. E fa menzupà. Ma non così. Come non così, se fa così. Molto buono, molto soffice, anche questo non è eccessivamente dolce. Per niente. E io non sono un amante dei pancake, quindi se lo mando io, ragazzi, è veramente, veramente delizioso. È sofficissimo. Morbido. Si vede che non lo sono preparati, ma lo fanno loro. Il guante è morbido. Mmh. Che eccola tutto, mamma mia. Food Porn. Il formaggio contrasta il stagore forte della canina. Tra i due, ho preferito il panchetto di prima. Molto più equilibrato e delicato nel sapore. Anche l'impasto mi piaceva di più. Oreo cake, un must americano. Mmh. Ammazza, anche morbida. Il biscotto alla base è molto morbido, non è croccante, ma la crema è molto particolare, perché è un formaggio quasi un pochino acidulo. Esatto. Sicuro è una cosa, qui è tutto un formato magne e gopi, il più serio, mi sta abbandonando, già si è fermata. Perché devo cambiare il sapore? Ora andiamo con una cosa un pochino più salutare, perché c'è stata la frutta. La tosta di mele. Secondo me è cannellosa adesso. La cannella si sente al profumo. Eh sì, eh. Pronto? Pronto. Mmh. Wow. È cannellosa? Ma manco troppo. È meno cannellosa del waffle di prima. In realtà è molto gradevole. La mela dentro è cotta, è molto morbida. Bella fresca? Sì, lo strato sopra è sottile, sottile. Approvata le apple pie. Non mi dispiace. Io prego mangiare la torta e te te mangiare la carota. Io mangio solo verdura. Ma quant'è alta? Non lo so, è tipo un palco di una mano. È enorme. Guarda quanto è grossa. È a prova di mascella. Buona. A me la ciottei piace tantissimo. Ha la crema al burro, che non è troppo dolce. E poi il fabbispan è morbidissimo e ha tutti i pezzettini della carota. È un po' agromato. Guardate quanto è morbida. È tutti i pezzetti della carota all'interno. Ecco l'ultimo morso. 850.000 calorie le abbiamo introdotte. Esatto. La quota giornaliera è soddisfatta. Direi che c'è. Aspetta che ho mostrato un pezzetto. Ah sì, pulisci meno il piatto, non sia mai. Ora è finito. Ci è piaciuto a sta bakery. Carina, beh? Carina la location. Direi, torcateci perché è veramente, cioè il posto è veramente carino. Dolci, stile americano. Mentre in una bakery si aspetta esattamente questo. Sono piaciuti, sono molto belli. Tutti molto buoni. E sono enormi. Sì. Ovviamente piccolo consiglio, magari. Mani e godi style. Esatto. Piccolo consiglio, dividetevi le cose. Le cose. Una. Una. Non come noi. Otto. Con questa sala mednosi di zuccheri. Noi vi saluto al prossimo video. Ciao.